amici bentornati sul canale di elaborazioni autosportive oggi volevo riprendere un discorso che avevo iniziato con un filmato che ha fatto abbastanza scalpore che abbiamo girato circa due mesi fa dove facevo alcune considerazioni più o meno giuste più o meno sbagliate su quello che era la mia opinione sull'elettrico a distanza di due mesi diciamo soprattutto basandomi su quelli che sono più di 8.500 commenti questo video qua ha avuto una diciamo un successo che neanche io mi aspettavo pensavo fosse un video normalissimo quattro chiacchiere sull'elettrico come abbiamo fatto con tanti altri argomenti e non mi aspettavo assolutamente che diventasse virale ha fatto più di 350.000 visualizzazioni 4.500 nuovi iscritti proprio mi ha colto completamente alla sprovvista probabilmente anch'io avrei dovuto prepararmi prima se avessi saputo che questo video generava quel genere quel tipo di interesse avevi forse mi sarei dovuto documentare prima quindi sicuramente la premessa è in quel video c'erano delle inesattezze l'avevo anticipato prima quindi non entro nel merito al discorso del litio più o meno raro piuttosto che altre cose c'erano sicuramente delle inesattezze sono andato un pochino fuori le fuori dalle righe su alcuni commentando alcuni personaggi che molto onestamente non mi sanno simpatici per tutta una serie di motivi ma non è neanche giusto e corretto forse lasciarsi prendere la mano quindi anche su quello alcune critiche che ho ricevuto sono assolutamente sensate un'altra delle critiche che mi hanno fatto che la volta precedente il video è stato girato in estate e un cliente ci ha prestato molto gentilmente la sua sq8 e abbiamo girato un video dove sono stato criticato perché funzionava l'aria condizionata allora parto non voglio giustificare nessuno però era sicuro queste persone che l'aria condizionata funzionava a motore spento ed era alimentata dal motore elettrico quindi non l'abbiamo inquinato non ho come dire non sono andato contro le leggi per cui uno giustamente non può tenere il motore acceso per far andare all'aria condizionata quindi l'aria condizionata funzionava perché sennò schiattavamo di caldo però con il motore spento oggi siamo a bordo di questa 156 quindi una macchina molto più modesta sempre di un cliente è una macchina benzina purtroppo la prossima volta che faremo un video dovesse avere una full electric lo farei volentieri al bordo di una full electric purtroppo non ce l'ho a disposizione comunque oggi siamo a bordo di una 156 motore spento quadro disinserito non c'è la condizionata fa anche abbastanza freschino quindi anche su questa parte qui penso di non aver pestato i piedi a nessuno detto questo volevo riprendere soprattutto volevo andare a fare alcune riflessioni basandomi sui su così tanti commenti che mi sono arrivati perché diciamo anzitutto ho cercato di dare una risposta a tutti questi commenti quindi già quello è stato un lavoro che mi ha impegnato veramente in maniera massiva perché è un conto un video normale dove riceviamo 50 commenti riceverne 8.500 quasi 9.000 cambia un po la faccenda io ogni giorno devo rispondere a 6 8 10 commenti ancora di questo video perché è un video che è veramente diventato virale un video molto divisivo la prima cosa che voglio che voglio dire che io non sono contrario all'elettrico forse un altro errore che ho fatto in quel video è che io ho parlato solo dei difetti dell'elettrico quantomeno sulla base dei miei dati delle mie opinioni e non ho parlato diciamo del resto o delle alternative o delle problematiche su altre alternative per cui prendiamone una a caso visto che ho ricevuto decine di commenti non ho mai difeso il fatto che produrre diciamo petrolio combustibili fossili fosse una passeggiata chiaramente anche quello crea inquinamento ovviamente sia a livello di produzione sia ovviamente a livello di utilizzo per benobbie ragioni in combustione è ovvio che crea inquinamento è ovvio che crea delle concentrazioni di potere delle lobby l'italia non ha petrolio quindi sono dei dati che io davo per scontato li ribadisco adesso perché la gente non pense che io sono un fanatico delle macchine termiche a prescindere no cioè mi piacciono le macchine termiche mi piacciono le macchine termiche pulite quando vedo un diesel euro zero e ci sto dietro cerco veramente di tapparmi il naso e purtroppo ecco un inciso mi capita spesso purtroppo di vedere degli euro zero perché ormai euro zero a milano non possono più circolare da anni però guarda caso circolano i mezzi dello stato cioè io incontro ancora adesso delle land rover dell'esercito ancora col vecchio motore perkins diesel 2000 forse neanche turbo state dietro uno di quelle robe lì o i vecchi gli veicoli sono so come si chiamano dell'esercito una roba imbarazzante allora tu stato che vuoi diciamo dar spazio al discorso del green di quanto altro e mandi fuori dei mezzi tuoi diciamo pagati dei contribuenti ma dei mezzi tuoi sei un po incoerente un po come le campagne contro il fumo dove tu fai le campagne contro il fumo e poi ci guadagni perché sei coproduttore di tabacco insieme ai grandi produttori di tabacco quindi questo è la diciamo il primo la prima puntualizzazione che volevo fare poi volevo appunto magari entrare nel merito di altri due o tre argomenti sempre basandomi su quello che sono state appunto le critiche o diciamo i plausi che ho ricevuto la prima cosa che mi viene in mente è un che mi ha colpito è il perché bisogna canirsi solo esclusivamente sulle auto allora ho fatto una riflessione diciamo l'inquinamento c'è lo sappiamo poi che sia causato a livello ciclico è una cosa che sia che sia accelerato per questioni di diciamo sbagli che abbiamo fatto noi che stiamo facendo recentemente è un altro dato di fatto però il fatto di concentrarsi con così tanto accanimento sul comparto auto lì diciamo ci sono alcuni dati che mi lasciano perplesso ho letto recentemente un articolo su sulle 24 ore che non è certo penso sia un giornale assolutamente super partes non è certo le condizioni di gorgonzola sono di topolinea così almeno evitiamo che quelli di gorgonzola mi critichino dove dice ben chiaramente potete andare a rileggere magari lo metteremo poi in evidenza alla fine del video dove si fa un'analisi molto tecnica e molto puntuale quindi non un'opinione ma una constatazione basata su dei dati di fatto dove l'inquinamento derivato dalla combustione diciamo dalla circolazione di autovetture stiamo parlando qui non stiamo parlando di camion di navi di aeree di autovetture incide per meno dell'uno per cento diciamo l'uno per cento allora questa cosa qua mi ha onestamente mi ha fatto io pensavo fossimo su percentuali più alte ho letto questo articolo e non l'ho letto solo sul sole ma l'ho letto anche d'altra parte prima di fare sto video mi sono documentato un pochino meglio quindi se le macchie il comparto delle autovetture che adesso viene demonizzato come la causa principale di tutti i mali del mondo sempre relativamente al discorso dell'inquinamento dell'aria incide per l'uno per cento uno mi deve spiegare come con qualunque alternativa può essere l'elettrico può essere il volo a vela può essere e qualunque andare in giro in bicicletta andare in giro col monopatino come quello che volete come la risolviamo l'altro 99 per cento perché se viene se ci si concentra sull'uno per cento poi ci si dimentica casualmente che ci sono ancora delle caldaie che funzionano a gasolio forse ancora non dico carbone ma poco ci manca ci sono delle diciamo degli aerei noi siamo a milano abbiamo un aeroporto che praticamente gli aerei atterrano in piazza del duomo ancora un po quindi tutti questi aerei che soprattutto in decollo diciamo hanno uno sforzo dei motori molto maggiore tutto il 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 chiarosene che bruciano inevitabilmente cade piano piano al suolo e aumenta in maniera esponenziale quello che è l'inquinamento le caldaie stesse cioè ci sono un sacco di variabili che vanno bene al di là che inquinano percentualmente molto molto di più però questi questi ambiti vengono per il momento tenuti da parte si parla solo esclusivamente del discorso delle auto che a livello generale percentualmente è minimale uno degli aspetti che mi ha dato ma che mi dà maggior fastidio è proprio questa tendenza che parte diciamo da bruxelles io non sono all'interno della camera dei bottoni però diciamo so per certo che l'italia ha un potere decisionale veramente pari a quello pari a zero cioè anni fa eravamo la settima potenza del mondo oggi siamo la 66esima oltretutto facciamo parte di una comunità europea con un debito pubblico che è fra i dieci più alti del mondo quindi siamo messi in una condizione che peggio di così si muore cioè ripeto contiamo come si suol dire come il due di briscola io quello che non riesco ad accettare è il fatto che chi decide qui non tanti i nostri politici ma chi decide a bruxelles o in altri ambiti abbia deciso in maniera del tutto arbitraria di affrontare questo discorso della transizione ecologica e lì mi va bene però puntando solo su un unico cavallo cioè praticamente tarpando le ali a qualunque a qualunque altro genere di alternativa che potrebbe essere uguale se non migliora anche dell'elettrico cioè ripeto io non ce l'ho con l'elettrico fine a se stesso cioè l'elettrico ha dei limiti e su quello a oggi sono inequivocabili cioè non utile che stiamo a ha generato un problema sicuramente migliorerà sicuramente nel corso degli anni avrà uno sviluppo però come in tutte le problematiche ampie cercare di risolvere questa problematica con un'unica alternativa è veramente una scommessa veramente molto pericolosa sarebbe molto meglio affrontare il problema con un mix di alternative dove magari ci potrebbe anche stare il discorso del termico chiaramente rivisto corretto utilizzando motori di ultimissima generazione carburanti alternativi piuttosto che altre alternative che possono passare dall'idrogeno possono passare attraverso dei progetti veramente molto particolari che però tutta questa questa parte che va al di là dell'elettrico viene osteggiata cioè non viene assolutamente presa in considerazione faccio un esempio banale che mi è capitato di legge ma è una cosa che è già in atto da diversi anni ci sono diverse ditte italiane che producono questi queste trasformazioni si chiamano ossidrogeno sostanzialmente montano dei contenitori che creano idrogeno che viene iniettato insieme al carburante ovviamente per macchine diesel soprattutto macchine di vecchia generazione hanno fatto proprio dei test scientifici basta andare su internet uno se li può scaricare leggere vedere dove attraverso questo sistema anche relativamente economico si può trasformare un euro zero diesel fino a un euro sei cioè non è che si diventa elettrico il diesel però lo si migliora di sei volte quindi è un sistema che già in queste ditte qua propongono uno lo può montare la macchina chiaramente il dottor l'idrogeno lo utilizziamo anche noi in officina pulisce perfettamente il motore quindi rende il motore molto più pulito è veramente un'ottima soluzione per ingiovanire il motore ma al di là di quello siccome diciamo una capacità di combustione molto maggiore insieme al carburante standard che il gasolio ovviamente crea una un inquinamento decisamente inferiore rispetto appunto alle famosi euro zero quello che fra come dire fa specie è il fatto che uno o questi queste aziende qua producono questi materiali studiano fanno delle ricerche lo mettono sul mercato ma da un punto di vista pratico uno che monta questo sistema quadro appunto ossidrogeno la sua macchina se euro zero rimarrà euro zero nonostante che sia diventata diciamo sia stata upgradata euro sei allora uno si può si si pone la domanda ma come mai visto che il concetto è quello di arrivare ad avere l'aria sempre più pulita non si incentivano queste anche piccole nicchie non si incentivano anche queste piccole nicchie anzi si tendono a osteggiare perché uno se questa nicchia qua fosse stata sviluppata e si consentisse a coloro che montano questi sistemi di omologare poi cioè di fare l'upgrade a livello di di euro di arrivare all'euro sei sicuramente ci sarebbe un mercato un indotto e chiaramente anche un inquinamento decisamente inferiore quindi questo è un caso che la dice lunga nel senso che io sono veramente molto perplesso e l'ho descritto tante volte è una cosa che io non accetto sono queste imposizioni coercitive non accetto molto le imposizioni e quando mi vengono imposte in maniera proprio devi far così e se non è così è così lo stesso cioè non sono più bambino di tre anni dove è così lo stesso andiamolo a discutere perché voglio dire se uno ha minimo di cervello si documenta ci sono delle alternative sicuramente molto più tanto o tanto efficaci quanto l'elettrico o al limite anche superiore quindi incentivare questo sviluppo andando anche a studiare fuori dal campo dell'elettrico secondo me è doveroso viceversa che viceversa questo tipo di di approccio io lo vedo molto 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 in ritardo quindi questo è una un altro degli aspetti per i quali dopo tot anni me la sono sentita di fare un video che probabilmente ho interpretato male perché mi sono accanito solo sull'elettrico avrei dovuto fare come adesso un ragionamento più ampio uno spettro più ampio per dire l'elettrico va benissimo io per dire l'elettrico io personalmente ho comprato una macchina ibrida qui non è che sono pro macchina termica a tutti i costi però ci sono delle 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 situazioni delle condizioni dove l'elettrico va benissimo e altre soluzioni dove non può andare bene cioè se uno fa lunghissime percorrenze è inutile che mi vengono a dire ma io con la macchina faccio 400 chilometri poi mi fermo faccio la ricarica questo no un'efficienza di un motore diesel di ultimissima generazione è imbattibile che che ne dicano quelli che vedono il diesel come il male di tutto il mondo poi quando andiamo a leggere i dati e vediamo che il tasso di inquinamento di questi motori è percentualmente l'1% nonostante appunto a riprova di quello che dico alcune case ed è una notizia di pochi giorni fa alcune case che nel 2023 nel 2022 avevano tolto di produzione i motori diesel nel 2024 rintrodurranno i motori diesel quindi cioè non è che l'ho deciso io andatevi a leggere alcune case riproporranno il listino i motori diesel quindi probabilmente e da alcune case non parliamo sempre della toyota che ha sempre ehm l'amministratore delegato della toyota ha sempre ehm confermato che lui non era come marchionne era assolutamente contrario al discorso dell'elettrico tante case adesso cominciano a eh ripensare ehm al discorso di interrompere la produzione dei motori termici nel 2035 perché si stanno rendendo conto che probabilmente non è eh la soluzione ideale quindi io sono convinto che eh oggi siamo nel 2023 arrivare al 2035 ci sono più o meno 12 anni in 12 anni ne cambieranno ancora tantissime di cose quindi l'importante è non fossilizzarsi oggi su una cosa che uno dice è quella ed è intoccabile è un problema delicato però secondo me andrebbe analizzato in maniera veramente molto più ampia mh e non in maniera così come dico ogni tanto talebana dove sento mh tanti ehm potete andare a leggere perché sono rimasti in chiaro eh tante persone che hanno acquistato la macchina elettrica non c'è dialogo con loro perché sono stati talmente eh si sono o autoconvinti o sono talmente convinti che la loro scelta è la scelta eh per l'eternità che inutile gli vai a portare dei dati eh appunto un po' tipo quelli che vi ho vi ho esposto prima non sentono ragione cioè non non c'è verso è inutile convincere dopo due o tre botte risposta lascio lì non non vado avanti nella discussione perché non ho nel tempo nella voglia di di perdere tempo con persone che proprio sono eh la vedono in maniera molto più eh ottusa rispetto a uno che dovrebbe avere diciamo una una visione un pochino più ampia ho fatto queste queste ne avrei altre da fare però diciamo queste erano forse le le più importanti e mi piacerebbe appunto adesso rimandremo in onda a questo video adesso vedremo come intitola la seconda puntata del 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 discorso dell'elettrico vedremo un po' come intitolarla mi piacerebbe mantenere appunto un un collegamento fisso perché ci tengo a rianalizzare perché sicuramente riceverò ancora tanti commenti eh anche su questo video per arrivare ad ad avere delle idee mh veramente eh il più ampi e possibili e il più eh il più corrette possibile per cui magari mh in in un periodo successivo non è escluso che faremo poi una terza puntata mi piacerebbe anche lo dico qua trovare una persona fare una un contraddittorio con eh magari con dei tecnici che magari ne sanno sicuramente molto più di me magari i tecnici che lavorano nell'elettrico oppure sarebbe anche bello fare una un raffronto fra un diciamo un un sostenitore ehm dell'elettrico a prescindere un sostenitore del termico a prescindere cioè sarebbe anche interessante trovare queste queste opinioni io per il momento ripeto cerco di essere mh mi scuso se nella puntata precedente sono stato troppo incisivo sul sull'elettrico in questo caso mh ho cercato di correggere il il tiro rimango sempre della mia idea che ehm una macchina full elettrico oggi non la comprerei come probabilmente magari la comprerò in un domani ma oggi non la comprerò perché non è non ehm non risolverei le problematiche che eh che mi necessitano quindi inutile andare a comprare un prodotto che piuttosto vada a prendere un ibrido che in parte eh ha dentro un elettrico ma che mi consente di ehm di non avere i problemi che avrei sicuramente facendo lunghe percorrenze con un elettrico io direi spero di essere stato esaustivo anche in questa seconda puntata mi aspetto volentieri i vostri commenti sono stato politically correct quindi eh non ho detto parolacce non ho invito contro nessuno vi prego di fare altrettanto così almeno teniamo la conversazione su toni molto più pacati quelli che vanno fuori dalle righe l'ho detto anche e l'ho scritto anche precedentemente eh la prima volta cancello il commento la seconda li vanno dal canale sono a casa mia e su questo posso fare quello che voglio l'importante è mantenere un grado di educazione e cercare di essere costruttivi e non polemici a tutti i costi io direi che è tutto eh cliccate sulla campanella e iscrivetevi al canale per rimanere sempre giocati a tutto quello che noi facciamo un saluto alla prossima ciao 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 ciao